In questa puntata di AgraGiorna andiamo ad analizzare e testare un portaattrezzi radiocomandato cingolato dell'azienda C4 Meccanica di Umbertide in provincia di Perugia. Vediamo! Prima di parlarvi della macchina che è alle mie spalle, che è oggetto dell'analisi e dei test di questa puntata di AgraGiorna, vi voglio introdurre la C4 Meccanica. La C4 Meccanica nasce negli anni 70 come azienda per la lavorazione di carpenterie metalliche e con macchine utensili per conto terzi. È da circa una decina d'anni però che è anche creato il proprio portfoglio di prodotti. Una gamma dedicata al mondo forestale e agricolo e che principalmente si compone di testate trincianti idrauliche. A completamento della gamma per le macchine del movimento terra abbiamo anche le trivelle, le benne miscelatrici e le spazzatrici. Oltre a questi modelli per le macchine movimento terra, la C4 Meccanica produce anche una gamma di trinciatrici dedicate all'agricoltura. Prima di parlare delle caratteristiche della macchina semovente, cingolata, radiocomandata che si trova alle mie spalle, vorrei introdurla brevemente e spiegare come è nata. La C4 Meccanica ha voluto fare un bel passo avanti e andare oltre alla sola produzione di testate trincianti e creare una macchina che potesse sia essere guidata con l'operatore a bordo sia essere radiocomandata a distanza da remoto per le lavorazioni su forti pendenze e per una maggiore sicurezza anche dell'operatore stesso. Il tutto è nato circa nel 2020 e si è sviluppato in due anni tra progettazione, i primi prototipi, i primi test, le prime fasi. Nel 2022 è arrivato il primo prototipo e a oggi, nel 2023, la produzione è capace di sopperire alle richieste e alle vendite delle macchine semoventi. Per dare un nome alla macchina semovente è stato scelto l'acronimo di TMU40, in questo caso il modello V perché è a carreggiata variabile. L'acronimo sta per portaattrezzi, quindi trattore multiutilizzo, multiimpiego per l'ambito forestale e agricolo in quanto si può equipaggiare non soltanto di testate trincianti, trinciatrici idrauliche, ma anche tutta una serie, una linea di prodotti che possono essere impiegate per la manutenzione del verde, lo sgombero neve, il sollevamento e altre applicazioni inerenti al mondo dell'agricoltura. Il TMU40 rientra nella categoria dei robot compatti, stiamo infatti parlando di una macchina di circa 21 quintali di peso al quale poi vanno sommate le attrezzature utilizzate. E stiamo parlando però di una macchina unica nel suo genere, è infatti l'unico robot che può essere utilizzato sia da remoto, quindi da distanza, con un radiocomando dedicato per una maggior sicurezza dell'operatore e per poter lavorare su forti pendenze. Però può essere anche impiegato con l'operatore a bordo, con una semplice operazione di due minuti, si solleva il roll bar, si mette il radiocomando in plancia e con un joystick dedicato si può guidare direttamente la macchina da sopra. Dove il rischio è ridotto, questo consente di lavorare anche con l'operatore a bordo per velocizzare le operazioni, nonché anche migliorare e velocizzare i trasferimenti, in quanto l'operatore a bordo controlla molto meglio la macchina ed è sicuramente più veloce. Sono quattro i punti cardine che devono essere attivati o disattivati per far funzionare il robot con l'operatore a bordo oppure da remoto. Roll bar, quindi roll bar in posizione alzata o abbassata, il comando in plancia, quindi il controller remoto che sia installato correttamente in plancia, la posizione dell'operatore sul sedile e il consenso del joystick. Quando queste funzioni sono tutte attivate allora l'operatore potrà utilizzare e impiegare il robot dalla postazione di guida. Una nota importante sul posto di guida riguarda la protezione operatore, ovvero le certificazioni ROPS-FOPS, nonché anche la possibilità di avere un'omologazione stradale su richiesta. Questo è un punto fondamentale che contraddistingue il TMU DC4 Meccanica. Parliamo brevemente delle caratteristiche costruttive del TMU40. Il motore è uno Yanmar 3 cilindri turbo, 1.580 di cilindrata, da 40 cavalli di potenza. Raggiunge l'emissionamento Stage 5 senza l'impiego di Adi Blue. Si dota di una ventola reversibile a passo variabile che cambia l'inclinazione delle pale in funzione della temperatura del motore. Ulteriori due caratteristiche sul motore. La prima è che la coppa dell'olio è modificata e questo per garantire il pescaggio e la lubrificazione costante del motore, anche su forti pendenze. E la seconda è l'intervallo di manutenzione di 500 ore. Per quanto riguarda il telaio, è realizzato per la sua quasi totalità in acciaio alto resistenziale, in strength e si compone come una vasca chiusa che protegge tutti gli organi e tutti i componenti della macchina. Quindi sia tutta la componentistica motore, tutta la componentistica idraulica e tutto quello che consente il funzionamento del TMU. A livello di trasmissione abbiamo due rapporti. La macchina è ovviamente completamente idrostatica e i rapporti sono la gamma di lavoro da 0 a 4 km orari e mezzo e la seconda gamma, più per gli spostamenti veloci, da 0 fino a 9 km orari. Con un comando dedicato è possibile controllare da 0 a 100% la velocità di rotazione dei cingoli. Quindi non si controlla la macchina soltanto con il comando di avanzamento, ma è possibile limitarne anche la velocità e gestire la macchina in un modo decisamente migliore quando si incontrano delle pendenze elevate o quando è necessario ridurre un po' l'aggressività dell'avanzamento. A livello di idraulica, il TMU si equipaggia con tre pompe che costituiscono un circuito chiuso, una per il cingolo destro, una per il cingolo sinistro e una per la testata trinciante, rispettivamente 30, 30 e 55 litri al minuto di capacità. Per i servizi, le funzioni del sollevatore, le funzioni dei quattro distributori e la carraggiata da variabile del cingolo, la macchina si equipaggia con una pompa e un circuito aperto di 30 litri al minuto per svolgere tutte le funzioni aggiuntive. Sempre a livello del funzionamento dell'impianto idraulico è giusto citare le funzioni del sollevatore che può essere impiegato con singolo effetto, quindi come se fosse un sollevatore posteriore del trattore, come sollevatore doppio effetto, quindi come se fosse un sollevatore anteriore di un trattore, spinta verso il basso, spinta verso l'alto, oppure con la funzione flottante. Il TMU 40V si equipaggia di un carro variabile da 1,30 di ingombro fino a 1,80 quando i cingoli sono allargati esternamente. Il carro si compone da una ruota di trazione principale, due ruote folli, un'anteriore, una posteriore, due piastre antideriva e quattro ruotini intermedio in acciaio forgiato. Una particolarità delle quattro ruote intermedie è che sono in acciaio forgiato a differenza di altri modelli presenti sul mercato. A livello di cingolatura abbiamo quattro diverse soluzioni che vengono fornite dalla C4 meccanica. La prima è quella che abbiamo impiegato noi oggi ed è la cingolatura in gomma con alto profilo, ovvero una maggiorazione dei tasselli per avere più presa e una miglior aderenza in pendenza. Esiste anche la cingolatura in gomma con profilo standard. Oltre a queste due configurazioni che escono nella larghezza di 280 mm, è possibile equipaggiare il TMU con due ulteriori soluzioni che, oltre alla cingolatura in gomma, utilizzano degli elementi in ferro. Il primo è una cingolatura con staffe metalliche a V e il secondo, oltre ad avere le staffe metalliche a V, ha delle punte coniche. Entrambi questi modelli hanno larghezza di 250 mm. Grazie a questa costituzione e a queste caratteristiche, la macchina può affrontare pendenze fino a 55 gradi. Noi l'abbiamo testata e devo dire che mi ha sorpreso tantissimo quando sono riuscito a lavorare e a trinciare su pendenze di 40 gradi. Quindi abbiamo verificato che comunque su forti pendenze, dove la terra tiene, la macchina è capace di salire. Lo fa anche in un modo deciso e che la metta in condizione di poter lavorare. Due considerazioni sulla macchina e sulla sua operatività. Io l'ho utilizzata e l'ho testata sia a bordo sia con radiocomando e ovviamente tutte le operazioni che vengono svolte con il radiocomando, una volta che lo si porta a bordo, si possono effettuare anche dal sedile, dal posto di guida. Detto ciò vorrei dire che è molto intuitiva, è molto facile da utilizzare e soprattutto una cosa che aiuta molto è quella di poter regolare l'aggressività idrostatica della trazione sui cingoli. Questo può essere molto di aiuto quando si scende da forte pendenze, bisogna salire a massima forza e magari fare delle manovre dove non è invece necessario lavorare con la massima aggressività idraulica sui cingoli. Una cosa che mi ha decisamente stupito e che mi è piaciuta molto è la sua aderenza e la capacità di lavorare a passare anche pendenze che per poco, per pochi metri, sono anche decisamente importanti come l'argine che abbiamo scavalcato di circa 40 gradi di pendenza. Un'altra caratteristica che mi è piaciuta molto è quella di essere decisamente agile, veloce, manovrabile, molto robusto per idraulica, sia dell'idraulica delle manovre sia dell'idraulica della trincia forestale. Non dimostra i suoi 40 cavalli, in realtà gliene darai qualcuno in più. Una cosa importante che ci tengo a precisare è che in questo caso con una macchina semovente di C4 meccanica, utilizzata con testate ottimizzate per questo tipo di macchina che arrivano sempre dal costruttore C4 meccanica, si ha un rendimento, una prestazione che secondo me è ottimale in quanto si riesce a sfruttare a pieno l'impianto idraulico della macchina e sfruttare quindi tutti i 320 bar di pressione. Cosa che non succede se andassimo ad abbinare la testata trinciante ad un escavatore o ad un altro attrezzo che comunque ha un impianto diverso da quello del TMU. In generale la macchina mi è piaciuta molto e in questi due giorni di prove comunque è stato molto semplice per me imparare ad utilizzarla sia a bordo con il joystick a sinistra quindi con la guida a sinistra sia lo sterzo che l'avanzamento ma è stato anche piuttosto facile utilizzarla con il radiocomando. Non abbiamo affrontato delle pendenze estreme però ho percepito molto la fiducia che mi dà soprattutto quando lavori da remoto e puoi posizionarti per vedere la macchina lavorare ma lasciare la macchina in un posto in pendenza e lasciarle svolgere diciamo il lavoro gravoso anche con la trincia forestale. Un commento che merita citazione secondo me è quello che riguarda la pesistica della macchina che è vero rientra nella categoria dei robot di media piccola taglia ma è anche piuttosto pesante ha dei pesi comunque piuttosto importanti per la sua categoria dati anche dalla possibilità di guida a bordo. Nonostante questo il motore Yanmar e l'idraulica muovono molto bene la macchina e soprattutto riguardo al primo componente quindi al motore devo dire che è difficile metterlo in crisi e anche con una trincia forestale da 1,35 m comunque ci vuole molto impegno per metterlo sotto torchio. Quindi secondo me da parte di C4 è stato azzeccato molto bene il binomio idraulica e motore. Non voglio fare la marchetta ma voglio esprimere un commento sincero e oggettivo per quello che ho provato. Mi ha stupito sotto certi aspetti e se ci fosse qualcuno che è interessato all'acquisto di una macchina di questa categoria gli consiglierai vivamente di valutare anche il TMU di C4 meccanica. Un'altra puntata di AgriAggiorna giunge al termine io vi ringrazio per averci seguito fino in fondo. Vi invito a contattarci al nostro indirizzo email agriaggiorna-agri957.com se anche voi con le vostre soluzioni tecniche, macchine e prodotti innovativi volete essere inseriti all'interno di questo programma dedicato al mondo dell'agricoltura. Vi invito inoltre anche a contattare l'azienda C4 meccanica per avere maggiori informazioni su questa macchina e perché no anche su tutta la loro gamma di prodotti. Grazie per essere stati con noi. Grazie per aver guardato il video.